bella a tutti ragazzi qua è luca che vi parla oggi siamo in un nuovo video oggi vorrei preencare una persona però io ho registrato questo video purtroppo il mio telefono che è un po abbonato me l'ha cancellato e allora vi faccio vedere cosa gli ho scritto perché purtroppo non posso ripetere sennò mi sgamerebbe l'anniversazione inizia da qua io ho scritto ehi lei mi ha sposto e come vanno le cose bene 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 a te cosa è scusate sbagliati cioè le cose capito volevo dire idem che fai niente faccio le solite cose ti chiamo il palermo ha cercato di chiamare ti chiamo più tardi è successo qualcosa no ti vedo strano no è solo che non ho voglia di stare a telefono comunque ti devo dire una cosa luca sono la tua miglia amica e me e a me puoi dire tutto io vado ai tre puntini sospensivi dimmi luca che mi devi dire due puntini una cosa dimmi il nostro rapporto è stato molto bello di amicizia logicamente io ho scritto non mi dire che non puoi essere più migliore purtroppo no aspettate che ho perso purtroppo no luca mi stai facendo preoccupare a me dispiace tanto ma questa è la vita sto piangendo luca cazzo mi dici che succede ma non è colpa tua è mia scusami tanto luca mi dici che sta succedendo non so come è un problema ora ti spiego il problema mi sono finanziato con una ragazza e lei è molto gelosa le ho parlato di te e lei mi ha detto che non posso fricontarti mi dispiace ciao ma chi come due anni di amicizia comunque un'altra cosa che ti devo dire sono passati bene comunque quattro anni era riferito mi vuoi fare un piacere un favore cosa salutami youtube vaffanculo scusa dai luca sei un pezzo di merda mi hai fatto preoccupare sto piangendo ti ho pianguto veramente sei un pezzo di merda io ho scritto io ti voglio bene io scusa ok ora devo andare lo sai che non possiamo lasciarsi mai a più tardi siamo troppo amici ciao lo so ed è per questo che sto ci sono rimasta male stai ancora registrando no sì ti voglio bene voglio solo sottolineare una cosa non è la mia fidanzata è la mia migliore allora perché manda di cuore perché ci vogliamo un c'è bene il nostro aspetto lei per me sarebbe la mia sorella non mia amica sorella sorella ora proverà di preencarmi lei quando li scommettete ormai la conosco troppo bene o mi dice vaffanculo o proverà di preencarmi flora posso venire solo dalle cinque perché ora devo farmi un attimo i compiti dalle cinque poi faccio alle sei perché poi devo andare alla riunione di squadriglia vabbè penso che questo video possa finire qua spolliciate condividete e al prossimo video voglio annunciarvi che stasera alle sei proverò a fare cioè caricherò un vlog però non so se poi però vi voglio dire un'altra cosa aspettate oppure caricherò uno spacchettamento su clash royale domani perché sono molte sorprese ragazzi vi dico solo questo bene a tutti ragazzi